Non aspettate che altri facciano scelte per voi. Ognuno è padrone del proprio destino. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega per la sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli, ha i tanti studenti che lo hanno incontrato nel teatro dei ruderi di Cirella Diamante, nel corso della celebrazione della giornata per la legalità, nel ricordo dei 30 anni delle stragi di mafia. Gabrielli, intervenendo nel dibattito organizzato e moderato da giornalista del Corriere della Sera, Francesco Verderami, ha aggiunto che chi sa, chi conosce, studia e si impegna è il futuro di questo Paese. Alla manifestazione anche l'amministrazione comunale di Diamante, con in testa il sindaco Ernesto Magorno.